Buongiorno a tutti, oggi bevo il tè con la regina madre. Ieri purtroppo i dolori sono arrivati, verso tardo pomeriggio. Ieri mattina siamo andati a farci il nostro giretto e ho fatto fatica, proprio a livello di gambe, stanchezza, però non avevo dolori qua. Invece poi ieri pomeriggio ho iniziato ad avere i dolori, allora ho preso la pastiglia. Stanotte ho dormito abbastanza bene e adesso prenderò un'altra pastiglia perché ho proprio tutto male qua. Non so voi, qua dietro, mi fa male qua, qua, le spalle soprattutto. Quindi oggi starò qui a casa tranquilla, non uscirò per niente, anche perché la pastiglia con la codeina mi dà sonnolenza, quindi è meglio non guidare, però non è grave, non spaventatevi, non sto malissimo, però è un po' debilitante. Vabbè, ormai è così. Io tra poco scendo in buca lettere e vediamo più tardi cosa mi arriva da voi. qualche cartolina, sono proprio curiosa e tanto felice. Grazie ancora per tutti i vostri messaggi e vi auguro una splendida giornata. Ciao!